Un gruppo di telecomore! E' Roberto Melliere, la camera e il direttore! E' la propietà! Radio MPA! Radio MPA! Salutiamo i salernitani! Stegna salerno! Stegna salerno! Stegna salerno! Salerno spiegati! Buongiorno a tutti! Grazie! Grazie, grazie che stanno sempre con noi! Grazie! Ricordate di noi quando avete la penna in mano! Carissimi amici, amici! Memorizzate i nostri visi! Ricordate che il nostro amico è un momento per la mano! Grazie! 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 Grazie!